Ciao cari amici del progetto Ruskeldius, bentornati al consueto appuntamento con gli asset gratuiti che mette a disposizione l'Epic Game ogni inizio del mese. Questo dicembre, visto che è Natale, hanno messo qualche asset in più. Ok, qui vedete una carrellata dei disegni degli assets e adesso vediamo nello specifico quali sono. Allora, abbiamo uno showroom che può essere sia artistico che di moda, che per una concessionaria d'auto per esempio. Clicchiamoci su, andiamo a vedere le foto, zoomiamo. Ok, questa è la versione museo o mostra di quadri e sculture. Poi questa è la versione negozio con dei manichini, con dei modelli magari da vendere online. Può essere uno studio virtuale dove, o un negozio virtuale dove la gente può andare a fare shopping. Ok. Come vedete ci sono gli stand. Ok. Può essere anche un ottimo concessionario di automobili futuristiche come queste. Come vedete. Ok, questi sono tutti gli asset messi a disposizione e le potete utilizzare gratuitamente. Sempre per l'Epic Game. Ok, torniamo indietro. E abbiamo il Kraken, mostruoso. Boss che si può utilizzare all'interno dei videogiochi come combattimento finale di qualche livello. È un mostro marino con le sembianze. Metà di, diciamo, un crostaceo e metà con un cefalopode. Vedete. 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 Ok. Torniamo indietro. E abbiamo dei materiali un po' particolari. effetto oro egizio con dei simboli, così. Poi, luce blu che può essere anche effetto marino. Un azzurrino tenue. Un effetto, diciamo, rosso, bruciante, diciamo. E altri effetti così, vedete. Per esempio, se qualche alieno ci sparasse, uscirebbe questo effetto e poi scompariremmo. Un esempio, eh. Alcuni simboli strani, forme un po' tipo vetro, cristallo. Altre tipologie di materiali, come vedete. Poi, altri materiali, vedete, sempre con rosso, giallo, blu. Azzurro, vabbè. Ok, abbiamo. Allora, abbiamo questo, insieme di oggetti, cioè di assets, urban, che possono essere utilizzati per mettere delle zone un po' disolate. Sono, ad esempio, taniche, casse, pneumatici, bombole, ultracasse, barili, ecco, bombole di tutti i tipi, ok, contenitori, busti. Ecco, queste sono tutte le tipologie che vi vengono concesse gratuitamente. Poi abbiamo un modello per un gioco di ruolo. Come vedete qua, si possono aggiungere delle potenzialità, ad esempio, al nostro personaggio, come la barriera, tipo lo scudo, oppure l'arma d'attacco, delle bevande per farlo aumentare di vita o di stamina, in caso mancasse, eccetera, eccetera. Questa è la mappa di evoluzione del personaggio, ok, questo è più da gaming. Vediamo un po', c'è Respawn, poi l'eventualità Maurice, ecco. Andiamo agli ultimi asset a disposizione, questa è una tipologia di gioco, corri e salta, probabilmente, è una tipologia che si utilizza molto nel mobile. Poi vediamo l'ultimo, ma non per ultimo. Abbiamo un'ambientazione, diciamo, con terreno rosso e costruzioni in mattoni rossi. Possono ricordare un po' la natura della macchia salentina, le zone mie, insomma. Anche se non ci sono molte colline e montagne qua, eh. Ok, ci sono anche delle costruzioni, dei cannoni anche. Eccolo qualche nome. Sembra, oppure un'ambientazione messicana, giù di lì, insomma. Maya. Ecco. Qua ci sono altre assets, monete dobloni d'oro, barili e tante altre oggetti che possono essere utilizzate all'interno del nostro game. Ok, con questo è tutto. Vi do gli auguri di buon Natale per chi vedrà solo questo video. Poi, se vi è piaciuto particolarmente potete andare nella parte info del canale dove troverete i nostri social network e potete finanziare il nostro progetto tramite Paypal, Patreon o quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Poi, se vi è piaciuto, potete mettere tanti bei like, commentare, 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 attivare la campanellina dopo esservi iscritti, e niente, un bacio alla democrazia e dal progetto Roscare. Ciao!